Guazzo contro Maiella di vicino contro Monte Ervino, troppo facile presentare così la partita più attesa della nona di ritorno. 27 punti a disposizione, la Salernitana vuole rompere i giochi, il Campobasso salvarsi direttamente. Si aspetta una gran bella cornice di pubblico per una gara fra due squadre in forma, anche se Granata hanno tirato un po' il freno a mano negli ultimi due turni corrispondenti ad altrettanti pareggi. Per la cronaca la Salernitana ha anche fallito due penalty nelle ultime due giornate. Il Campobasso punta a fare come l'Interreggio, un gol e poi tutti a difendere la situazione di vantaggio, staremo a vedere. Bullo conta sulla linea 4 in difesa, si parte dai pali con Cattenari a difendere quelli rosso-blu. Sarà la partita dei portieri di riserva, anche Perrone non può contare sugli annarigli e deve schierare Dazzi. Marino e Minadeo saranno i centrali, la prova diligente di L'Aquila potrebbe valere una nuova maglia da titolare per Boi, stesso discorso per Pascucci che potrebbe essere arretrato in difesa. È più di un'ipotesi il reintegro di Fella, dopo l'infortunio con la rappresentativa di Lega Pro a centrocampo, largo sulla mancina, è possibile un utilizzo di esposito. A Dallocco e di vicino le responsabilità di illuminare il centrocampo di Bullo, mentre rimane invariato l'attacco con Bussi e Maiella. Il Campobasso ha raggiunto un suo equilibrio e acquisito una precisa identità, ma ha anche registrato discretamente la difesa, imperforabile da 264 minuti, cioè dal parziale 1-0 dell'Aprilia a Selvapiana. La salernitana non conosce sconfitte, il Campobasso da tre turni assapora solo la vittoria per Perrone, in forse Gustavo, fuori Mancini e Rinaldi. Intatto il superattacco di Granata, composto dal francese Munan, Daguazzo e Ginestra, che insieme hanno segnato 26 dei 45 gol salernitani, divisi equamente 13 e 13. Prestigioso il capitano di Granata, si tratta di Montervino con un passato anche nel Napoli in Serie B, interessante il 90 della Lazio Perpetuini, per il quale si prevede un futuro nella massima serie. A Selvapiana è probabile anche la presenza del presidente Lotito, oltre che di una folta schiera di pubblico salernitano. A dirigere a Selvapiana è stato chiamato il signor Ross della sezione di Pordenone. Grazie a tutti.